Che Bologna! Che Bologna! Che Bologna! Che spettacolo! Tiago motta uno di noi! Tiago motta uno di noi! Tiago motta uno di voi! Milanisti! Occhio che vi viene a prendere Tiago! Occhio Milanisti che vi viene a prendere Tiago! Occhio! Ragazzi! Bologna-Roma 2-0! 2-0! Tiago motta mamma mia! Tiago motta mamma mia! Tiago motta mamma mia! Che allenatore! Che allenatore! Un allenatore stratosferico! Che supera il maestro! Il Tiago motta che supera Mourinho! Maestro del triplete! Una favola! Il Bologna è una favola che continua ad andare avanti e si porta al quarto posto! Posto zona Champions! Un Bologna stratosferico! Giocano divinamente ragazzi! Giocano divinamente! Hanno una punta che mi fa impazzire! Che la vorrei nella mia amata Inter al posto di quel cadavere che ci hanno dato! Ok? E ragazzi la Roma? Parliamo della Roma! Roma senza Divala! Senza Lucato! Il nulla! Cosmico! Il nulla! C'è proprio niente di niente! Solo a picchiare! Parede sei un giocatore di merda! Che brutto giocatore! Io ti guarda quando giocavi all'Eppoli ti ammiravo perché eri un giocatore che sapeva giocare a calcio! Adesso sai solo dare delle botte! Sai solo innervosire le partite! Sei diventato una merda di giocatore! E mio amico! Mamma mia! Senza Lukaku e Dybala siete una pena! Una pena! Voi non meritate neanche tutta quella gente che viene a vedere allo stadio! Veramente perché non c'è mai un filotto continuo di partite buone che riuscite a fare! Cioè siete un disastro! Comunque prima di finire il video iscrizione al canale lasciate un like ci vediamo dopo il live mi raccomando commentate ditemi la vostra perché ragazzi vomito!